Musica Le Celsalento ospitano il Beach Volley Summer Tour 2012, tappa open nazionale, di scena oggi e domani sulla spiaggia della Marina di San Cataldo. Teatro dell'importante evento sportivo come già accaduto nelle precedenti edizioni del campionato italiano, lo storico stabilimento balneare Lido York, protagonista in questo fine settimana dunque le donne con la disputa dell'open femminile, 14 le coppie in campo. Ormai qui Lido York, San Cataldo è un abitué del Beach Volley, il quarto anno abbiamo portato il campionato italiano assoluto, quest'anno il Beach Volley Summer Tour con atlete di livello tecnico pari al campionato italiano e poi il 14 e 15 faremo anche l'open maschile dove avremo il meglio del Beach Volley nazionale. Il quarto anno che ospitiamo la tappa nazionale di Beach Volley, quest'anno ce l'abbiamo fatta anche quest'anno, vi assicuro che non è stato semplice perché il fatto della crisi, della contrazione eccetera eccetera è stata una bella impresa. Comunque ce l'abbiamo fatta, siamo soddisfatti, siamo soddisfatti soprattutto del livello tecnico perché abbiamo 12 coppie fortissime, lo sport come veicolo di promozione turistica sicuramente, speriamo che ci credano tutti quanti in questo slogan, sport come veicolo di promozione turistica. L'evento così come l'intero circuito delle tappe open nazionali di Beach Volley per questa stagione è organizzato e promosso dall'associazione Beach Volley 365 in collaborazione con la federazione italiana Pallavolo. La tappa leccese si avvale della collaborazione di provincia di Lecce, assessorato turismo e marketing e comune, l'organizzazione tecnico-logistica invece è a cura dell'agenzia eventi, marketing e communication. Anche questa occasione può essere buona per riempire un po' di camere d'albergo in questo periodo che non è che stia andando alla grande come turismo e quindi avendo qua a disposizione circa 32 coppie di atleti che vengono da più parti d'Italia e per quella maschile ci saranno anche coppie che sono straniere, quindi daremo la possibilità a qualche albergo di poter lavorare. Può essere anche questa un'occasione a parte promozione dello sport per i giovani e anche a livello promozione turistica. Quindi proprio il caso di dire che lo sport può dare lo sprint al turismo? Ma è un altro di quei veicoli, poi l'Ido York per quanto riguarda il Beach da tre anni è andata su grosse emittenti nazionali, voi lo sapete. Quest'anno con la crisi si stava rischiando di perderla, invece alla fine siamo riusciti a chiudere non una ma ben due date importanti. Lo sport è un grandissimo veicolo di promozione turistica per il Salento e tre i campi di gara posizionati all'interno dello stabilimento per un tabellone a 24 coppie, uno spettacolo che promette forti emozioni. Per la tappa femminile la presenza delle migliori interpreti della specialità, Cristiana Parenzan, Margherita Chiavaro, Jessica Legretti e Giulia Toti, Sara Panigalli, Laura Giombini-Vittoria Orsi-Tot. Sì, sicuramente è tanto duro, tanto faticoso, però è uno sport bellissimo, ti sporchi sulla sabbia, sei libero di fare quello che vuoi e consiglio di farlo a tutti. Venite in spiaggia. Come è entrato il Beach Wallet nella tua vita? In modo alquanto tragico ma bellissimo, nel senso, io giocavo per lavoro nella nazionale italiana giovanile, poi così dal nulla mi hanno chiamata e è stato un impatto abbastanza brusco, cioè dal parquet alla sabbia, al sole, al vento, al caldo, alla fatica, a giocare solo in due, però ho trovato tantissime soddisfazioni sia in campo che fuori e mi ha conquistato animo e corpo, quindi anch'io consiglio vivamente a tutti. Si inseparabili in campo e anche fuori oppure no? Ma, già è difficile in campo, a scherzo, ci troviamo bene fortunatamente e meglio così. Anche per questa stagione, dopo le fortunate esperienze del campionato italiano, si riporta dunque nel Salento un evento di prestigiosa portata. Il Beach Volley Summer Tour 2012 ritorna nuovamente a Lido York anche martedì 14 e mercoledì 15 agosto con la disputa della tappa Open maschile. Al prossimo episodio